La mia esperienza al Festival è stata, ahimè, visto le condizioni che riguardano l'intero globo, è stata a distanza, sono arrivato oggi, ho visto l'ultimo film, gli altri me ne sono visti a casa, è stata un'esperienza da spettatore pazzesca e molto nuova per me. È sorprendente perché sia dal punto di vista dei linguaggi e della stessa durata, sarà complesso parlare con i miei colleghi al riguardo perché le dinamiche e gli strati sul quale affrontare un possibile giudizio di conseguenza, un possibile vincitore sarà perdito. Il nuovo cinema è una sala come quella dove oggi ho visto questo film, con quella forma di tradizione e sguardo verso il futuro.